Diletta Leotta in Turchia con Gianni Aman per conoscere la suocera Gianni Aman è felice e si vede. Dopo aver conosciuto la famiglia della Leotta e aver viaggiato in lungo e in largo per la costiera Malfitana lasciandosi andare a una vacanza romantica e appassionata. Ha convinto Diletta Leotta a seguirlo in Turchia per conoscere i suoi parenti. Insieme posano più innamorati che mai in barca al tramonto. Ma tanti scatti raccontano della riunione familiare, tutti attorno a grandi tavolate felici e sorridenti. Anche la suocera finalmente ha conosciuto di persona la conduttrice sportiva italiana e sembra esserne rimasta entusiasta. Guldemani m'ha postato in fretta una immagine insieme a Cane e Diletta scrivendo mio figlio e mia figlia. Insomma, l'ingresso in famiglia Yaman è ufficiale.